Tentano l'assalto alla cassaforte del supermercato, ma suona l'allarme e sono costretti a fuggire dall'arrivo dei carabinieri. È accaduto nelle prime ore della mattina al supermercato INS di via stazione a Porcari. I ladri sono entrati in azione intorno alle 3 e mezzo, hanno prima forzato l'ingresso di servizio e successivamente una porta interna attraverso la quale sono arrivati al forziere. Nel frattempo però era scattato l'allarme e l'istituto di vigilanza privata che sorveglia l'esercizio commerciale ha subito allertato i carabinieri. L'equipaggio del radiomobile di Lucca che si trovava nei paraggi è giunto in pochi minuti sul posto costringendo i malviventi ad abbandonare il supermercato senza riuscire a rubare nulla. I carabinieri hanno subito avviato le indagini. Riscontri preziosi potrebbero essere forniti dall'acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati nella zona del tentato furto.